La Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuali del Mar Adriatico Meridionale e del Mar Ionio e World Trade Free Zone Organization, associazione emiratina che riunisce le 50 zone franche dell'area di Dubai e a 9 era tra gli associati le principali zone franche del mondo, hanno siglato un protocollo di intesa della durata di due anni e senza obblighi finanziari per promuovere le zone economiche speciali e le zone franche doganali pugliesi di recente istituzione. Obiettivo mettere a disposizione delle zone franche aderenti una serie di vantaggi come poter usufruire di informazioni, servizi di accompagnamento e accordi collettivi e di vedersi riconosciute e visibili a livello globale, così da favorirne lo sviluppo, la prosperità economica e promuovere occasioni di investimento. La Regione Puglia ha poi sottoscritto con l'operatore commerciale della Free Zone dell'aeroporto di Dubai un altro protocollo di intesa per l'implementazione di buone prassi a supporto del digital export delle piccole e medie imprese pugliesi. Inoltre con la presenza a Dubai nella delegazione Puglia del sistema universitario pugliese definito anche un accordo che sarà prossimamente sottoscritto con un parco tecnologico istituito nel 2016 per decreto reale dello sceicco Sultan Bin Muhammad Al-Qasini parco che mira a sviluppare e gestire un ecosistema di innovazione. Un'occasione importante per segnare degli accordi, degli accordi per le imprese pugliesi. 13 sono qui presenti, dalla moda al design all'arredo, ma non solo questo. Noi vogliamo puntare a costruire opportunità per le imprese pugliesi qui e abbiamo segnato un accordo con l'azienda Traveling che si occupa di una piattaforma digitale B2B che gestisce quasi tutte le transazioni del mercato arabo. Grazie a tutti.